Il Consiglio Comunale della città di Barletta ha convocato in seduta pomeridiana per lunedì 5 settembre presso la sala consigliare del primo piano del teatro Curci. È stato rinviato per l'assenza del numero legale. Solo 10 i consiglieri presenti alle 16.30. A momento dell'appello per la convocazione assente tutta la maggioranza, tranne la consigliera di Sinistra Unita, già vice sindaco Anna Franca Bandiera, e la consigliera, grazie a Desario, che sempre più spesso si esprime criticamente nei confronti dell'amministrazione Cascella. Assente dunque il resto della maggioranza, compreso il sindaco e il presidente Peschechera, più alcuni dell'opposizione, tra cui i socialisti Cannito e Salvemini, ma anche Giovanni Alfarano, che durante l'ultima seduta consigliare aveva letteralmente salvato Cascella, mantenendo il numero legale. Non era prevista una seconda convocazione, come stabilito da una precedente conferenza dei capigruppo presieduta dal consigliere Ventura. Di conseguenza il Consiglio dovrebbe slittare per alcuni giorni, dando il tempo di ricercare i numeri, poiché non si raggiungerebbe comunque la maggioranza in queste ore. Si sarebbe dovuto discutere del personale Barsa e del Gal Dauno Fantino, ma anche nei previsti punti all'ordine del giorno, dell'approvazione del progetto in deroga ai parametri urbanistici per la costruzione di una casa canonica in via Vitrani, su suolo dove sorge la vecchia chiesa del Buon Pastore.